Io sono Don Enzo, collaboro con l'ufficio catechistico della nostra diocesi e a nome dell'ufficio, in modo particolare di Don Andrea, che è il direttore di Suor Rosaria, di Domenico e di Teresa, vi salutiamo e vi diamo il benvenuto in questa parrocchia dove parroco appunto Don Luigi. Grazie per aver accolto l'invito a vivere insieme questa serata, a raccontarci alcune cose e soprattutto a pensare ad una prospettiva futura perché l'incontro di stasera si inserisce in un cammino che l'ufficio catechistico sta portando avanti già da alcuni anni. Il settore della disabilità è un settore dell'ufficio catechistico, già da alcuni anni l'ufficio sta pensando ad un vademecum per poter aiutare le parrocchie della nostra diocesi a vivere questa situazione della catechesi con persone disabili, ma capite bene che poi alcune situazioni lo hanno impedito, un po' la pandemia, un po' per altri fattori, speriamo che nel tempo si riesce a realizzare qualcosa e di poter dare degli strumenti anche alle parrocchie per poter vivere questo cammino nell'ambito della catechesi. Prima di dire ciò che faremo stasera voglio salutare con affetto innanzitutto il vescovo Monsignor Salera che è vescovo ausiliare della nostra diocesi, penso che lo conoscete tutti, del settore nord ma è delegato della catechesi. Da quando è diventato delegato della catechesi veramente segue con tanto affetto e amore il nostro ufficio e quindi veramente lo ringraziamo perché tra i tanti impegni stasera è qui in mezzo a noi e ci darà anche lui la sua parola a conclusione di questo nostro incontro. Saluto con grande affetto suor Veronica che certamente non ha bisogno di presentazione, è una suora alcantarina ma spesso la vediamo in televisione perché è responsabile alla CEI, anche a me, qui giochi in casa, qui giochi, non volevo essere così esplicito perché qui gioca proprio in casa con Don Luigi, però ecco in maniera ufficiale diciamo che lei è direttrice dell'ufficio CEI per la pastorale con persone disabili e Don Luigi che ci ospita è responsabile diocesano dell'ufficio. Abbiamo scelto questa parrocchia proprio perché poi ci racconterà lui l'esperienza che all'interno di questa parrocchia si vive con la disabilità e quindi la sua testimonianza, l'esperienza di suor Veronica stasera ci permetterà di aprire questo orizzonte e di capire come noi vogliamo camminare come ufficio e come diocesi da questo punto di vista. Vi rubo soltanto qualche minuto per dirvi brevemente, noi qualche mese fa abbiamo inoltrato ai parroci della nostra diocesi un questionario, non in maniera cartacea come solitamente avviene ma tramite un'applicazione, quindi per facilitare il tanto lavoro dei parroci e rispondere immediatamente a questo questionario. Abbiamo ricevuto delle risposte, ci siamo fatti in un secondo momento aiutare anche dai catechisti che stanno facendo il cammino in preparazione al ministero per poter sollecitare i parroci nel ricevere questo questionario e alla fine di questo nostro percorso stasera noi abbiamo avuto la risposta, vi dico sinceramente 65 risposte, uno potrebbe dire pochissime, un quinto, invece no perché poi la tentazione c'è, 65 che sono? No, l'idea iniziale è certamente quella di dire sono pochissime rispetto a tutta la nostra diocesi ma invece leggendo attentamente i questionari ci siamo resi conto che coloro che hanno risposto sono coloro che prevalentemente hanno all'interno delle proprie realtà delle situazioni di cui noi affrontiamo stasera le tematiche, non perché gli altri non abbiano voluto rispondere o perché assolutamente sono quelle parrocchie anche se in piccola parte hanno risposto anche altre parrocchie dove non ci sono queste problematiche, queste situazioni, però ecco le parrocchie che hanno risposto sono quelle parrocchie che all'interno vivono quotidianamente questa situazione della catechesi con persone disabili. Nelle statistiche, noi ormai da alcuni incontri a questa parte ci siamo fatti aiutare tantissimo dalle statistiche, un pochino da tutto ciò che la tecnologia ci presenta, su Rosario in questo è bravissima e abbiamo potuto vedere che le risposte rispetto ai settori, il settore nord ha risposto per il 27,7%, poi segue il settore ovest con il 24,6%, l'est il 21,5% e anche il sud il 21,5%. Anche se queste sono le statistiche per settore, ci siamo resi conto dalle risposte che abbiamo ricevuto che le parrocchie che hanno maggiore presenza di disabili è il settore est, il settore est è il settore che ha più disabili all'interno delle parrocchie. Non so se vi è capitato tra le mani questo questionario, una delle domande diceva che tipo di disabilità hanno, adesso non sto a fare l'elenco delle disabilità, però per rispondere alla prima domanda come mai 65 rispetto a tante parrocchie, ci siamo resi conto che le risposte avute sono risposte ben precise, quindi i parroci che hanno risposto conoscono bene tra virgolette le problematiche che ci sono perché hanno elencato proprio che tipo di disabilità ci sono all'interno delle proprie parrocchie, quindi questo ci incoraggia e ci fa capire che non è un argomento che non coinvolge la vita ordinaria della parrocchia, no al contrario, invece c'è una buona conoscenza. La seconda domanda era di quali risorse dispone la parrocchia per la catechesi con le persone disabili? Ahimè gran parte delle parrocchie risponde nessuna. Qualcuno nel rispondere a queste domande dice noi siamo organizzati dal punto di vista della logistica, magari abbiamo gli scivoli, abbiamo un ascensore, abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo persone che ci possano aiutare con la disabilità, pur avendo tanti casi, tante situazioni, quindi il più delle volte che cosa succede? Che si arrangiano, quindi con qualche catechista di buona volontà, qualche collaboratore, qualche giovane che viene incontro alle situazioni, queste sono le risposte che sono emerse. Si riesce a collaborare con le realtà presenti sul territorio? Il 51% dice sì. E anche qui c'è un elenco abbastanza ampio di collaborazione con la scuola, con tante associazioni, con case famiglia, quindi questo ci aiuta, è un passo in avanti rispetto alle prospettive che noi abbiamo in mente, perché se si crea una rete di collaborazione capite che anche nell'ambito della catechesi questa rete può intervenire per aiutare, per facilitare gli operatori pastorali nell'ambito della disabilità. Quindi qui c'è un elenco anche ben preciso delle realtà e questo veramente lo abbiamo accolto con piacere. Quando poi l'ultima domanda veniva chiesto, vi sono in parrocchia operatori pastorali con disabilità impegnati nella catechesi? L'82% dice no. Anche qui si può interpretare in tanti modi. Uno ci fa comprendere come ancora si fa fatica, forse, ad inserire nell'ambito della pastorale persone con disabilità che possano, che ne so, fare i catechisti, fare accompagnatori dei giovani, fare... Quindi questo potrebbe essere. Oppure un altro pensiero che potrebbe balenare alla mente è che veramente non ci sono persone con disabilità, soprattutto quando poi si parla di adulti si fa più fatica rispetto al ragazzino che deve venire per la catechesi dell'iniziazione cristiana, quindi si fa fatica ad inserirsi nell'ambito della pastorale. Però, ecco, è una prospettiva che noi vorremmo aprire e che dovremmo tenere presente. Lì dove ci sono, attenzione, in alcune parrocchie hanno risposto, ci sono delle associazioni oppure dei gruppi organizzati per persone con disabilità, quelli vanno avanti, ma, capite bene, è sempre molto ristretta la cosa. Cioè, è come un cerchio magico che si ferma lì, intorno a quel gruppo che va avanti con delle attività ben predisposte, ma non sono impegnati in prima persona nella catechesi, nella pastorale. E quindi questo deve essere anche un settore che noi dobbiamo cercare di sbloccare e in questo ci aiuterà sicuramente Sor Veronica e Don Luigi con la sua testimonianza stasera a capire come è possibile, che cosa noi possiamo fare, perché tante volte c'è anche la difficoltà da parte delle parrocchie di capire. E allora, ecco, questo è il quadro che è emerso da questi questionari che noi abbiamo mandato e abbiamo avuto come risposta dalle parrocchie. È un buon inizio, non ci fermiamo su queste risposte, ma andiamo avanti. L'incontro di stasera, ripeto, deve aprire delle prospettive. Ci auguriamo che piano piano tutti comprendiamo, perché poi il rischio qual è? Di rimandare sempre al parroco o ai sacerdoti alcuni impegni o alcune responsabilità che dovrebbero coinvolgere un po' tutti quanti noi. Siamo in un anno particolare, qual è quello del sinodo? Tutti dobbiamo sentirci responsabili, tutti dobbiamo comprendere come poter aiutare la nostra pastorale ordinaria a camminare da questo versante. Quindi io ringrazio i sacerdoti, le comunità che hanno risposto, ma ringrazio anche gli altri che non hanno risposto, ripeto, per quei motivi che io vi ho detto all'inizio. E do subito la parola a Suor Veronica e ancora una volta vi ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie a tutti, per me è bello essere qui, uno perché è casa mia, insomma, ecco, veramente sono venuta in un luogo che per me è casa, è la mia parrocchia. Ed è bello parlare a casa, dicevamo prima con il vescovo quando ci siamo visti, quando sono arrivata a Roma abbiamo fatto una missione in tempi insospetti, proprio, che ballavamo, insomma, dico certo ritrovarci ora, chi l'avrebbe mai detto, insomma. Quindi veramente grazie per l'invito, grazie a Don Andrea, insomma, grazie a Luigi, al parroco. Io condivido con voi alcuni piccoli passi, ecco, da Cercatechete, ecco, da quella che veramente crede che l'iniziazione cristiana, credo che in questo tempo storico possa essere un grande segno di profezia. Credo che abbiamo la possibilità di ridare significato e anche può essere un po' quel processo che viene messo in atto all'interno delle nostre comunità affinché la comunità diventi generativa. Ieri Don Luigi ha detto una cosa bella, dice la comunità, se è comunità ci si genera, c'è vicenda. Ecco, ed è vero, ecco, credo che la Cercatechesi abbia ancora qui in Italia una realtà che dice tanto. Ecco, e Don Enzo prima ve l'ha detto, grazie per questa, c'è mappatura perché non si parte da zero. I volti che sono qui da qualche anno sappiamo che abbiamo lavorato insieme fino al grande Ceva de Mecum, ma qui abbiamo lavorato e veramente è stata una grande, c'è sinergia con i parroci ed altro. Ecco, ora anche dopo il Covid siamo chiamati a fare un passo in più. Sento che il cammino cesinodale può essere una opportunità grande, perché veramente sta rimettendo in moto, sta rimettendo in discussione, ecco, tante c'è dinamica. Allora, ecco, non esserci o non esserci tutti, ecco, penso che sarebbe una grande, c'è mancanza. Per fare questo è reale che siamo chiamati noi a fare alcuni passaggi, alcuni cammini, affinché un pochino, come ha detto lui, alcune cose diventino ordinarie nei nostri contesti. Sono partita da una cosa, a volte si parla delle persone con disabilità ma non si dà voce alle persone con disabilità. Mi piace fare un passo indietro, ecco, io credo che il Vangelo è stata la più grande rivoluzione in cui il Signore stesso, praticamente, come vi ho scritto qui, rompe il nesso peccato, cioè disabilità, ridà il significato grande di chi è l'altro e di chi è la persona stessa. È reale che io oggi volerò su tante cose, poi vi do libri, testi, ve li leggete, insomma, però oggi voglio fare un dialogo, ecco, voglio insieme provocarci e fare un passo, insomma, ecco che va oltre. Il Signore stesso ha ridato una visione nuova di, cioè persona, e soprattutto di partecipazione al Regno. Allora, questo non è scontato per noi, perché specialmente quando si parla di persone con disabilità gravi, gravissimi, mi piace questa parte che ho messo qui sotto, ecco, spesso quando si parla di una persona disabile grave, ecco, disabile, cioè menomato, dobbiamo ricordarci sempre e comunque che è un corpo creato, un corpo meraviglioso, un corpo che rimanda all'immagine di Dio. Però questa immagine, ecco, potremmo dire, anche se a livello di testa siamo convinti di questa cosa, spesso le nostre posture pastorali contraddicono, ecco, spesso il nostro sguardo purtroppo dice altro. Il Signore si serve di noi per mediare la bellezza della parola. Allora, inizio questo incontro dando la parola a loro, perché è bene, e l'abbiamo detto, in un convegno grande a Firenze, le periferie in cattedra. Questo è un gruppo di giovani adulti inseriti in varie parrocchie della Puglia, dove praticamente loro narrano come sognerebbero una chiesa, una vita all'interno di una comunità. Io vorrei che la chiesa deve essere accogliente e deve essere un luogo di preghiera, ma non di critiche, aiutarci uno con l'altro, specialmente che hanno il discorso. È una chiesa che per noi iniziali sia attiva, accogliente. Per me la chiesa si va a messa per stare tutti insieme, per cantare. Voglio sapere, se devi fare la chiesa bella, bella, come la vuoi tu? Che cosa vuoi che ci sta in chiesa? Le grillone, dei disegni. La chiesa che vorrei è piena di amici, piena di laboratori come quelli che ci vuoi. Io vorrei la chiesa, una chiesa per tutti, una chiesa che sia uguale per tutti. A me mi piacerebbe la chiesa perché incontro le persone, gli amici, la comunità. Voglio pregare, insegnare di preghiera, con i sacerdoti, con il paroco e tutte le persone che incontro. È la bellezza di sentire vicino, è la pienezza della mia vita la chiesa. Io do la chiesa ecclesiale, sinodale, mi piace perché è una chiesa in uscita, che percora un percorso sinodale. È una chiesa anche cattolica, che ha dei progetti sinodali, per questo sinodo. Io vorrei una chiesa aperta, che la possono comprendere i grandi, i piccoli, le persone con difficoltà, tutte unite con lo stesso obiettivo. Ti piace venire in chiesa? Anzi, è buona chiesa, alla fine è l'ospitao. E tu che cosa fai? Io. Cosa fai? Sono il bongo. Sono il bongo, fammi vedere, fammi vedere. Eccoci, questo video è molto bello, sono dei giovani che fanno un cammino di fede, che succede, che sono inseriti all'interno del loro cammino parrocchiale, della loro comunità cristiana. Credo che la sfida bella di questo gruppo sia proprio il fare un cammino, ma la sfida più grande credo che sfida noi. Ecco, mi piace tanto perché hanno parlato del cammino cesinodale. Sarebbe molto, molto bello, potremmo dire che all'interno del processo del cammino sinodale, loro rientrano dentro. Ecco, loro abbiano una voce attiva. Anche nelle progettazioni pastorali spesso decidiamo noi cosa è bene per loro. Pur dicendo che sono immagini e somiglianza di Dio. Allora è una provocazione. Quanto loro entrano nei nostri processi? Noi facciamo strumenti per loro. Il rischio qual è? Creare strumenti nuovi, mettere toppe nuove su una idea che è vecchia, su un punto di vista che è vecchio. Invece è molto bello perché loro hanno una visione bella di chiesa. Voler partecipare, voler pregare con, voler entrare dentro i processi. Allora credo che sfida noi, sfida i nostri punti di vista, i nostri stereotipi. E spesso le nostre posture, spesso il nostro modo di stare con loro è guardare la diagnosi più che lato. Quando io ti dico, ma chi è Marco? Ma come Marco c'ha la sindrome di Down. Ma dice oggi è venuto Giorgio, ma chi? Insomma, quello con l'autismo. Credo che la sfida nostra è così, è un po' come dice il Papa, uscire dalla cultura dello scarto. E credo che la catechesia è una opportunità grande. Il Papa ci sfida, dice che spesso le persone con disabilità oggi esistono nei nostri contesti, perché in prima fila ci sono le carrozzine, meno male che la Signora è dietro, almeno qualcuno può scegliere dove mettersi. In seconda fila i sordi, i terzi, i ciechi. Ma non appartengono. Allora la sfida vera di un cammino di iniziazione cristiana, che tu appartieni alla comunità, ti inizia ad una vita dove tu in virtù del battesimo già ci sei dentro. Però devi appartenere. Ed è bello, vorrei partecipare, vivere, stare con. Credo che la sfida dell'iniziazione cechistiana e della catechesi sia questa partecipazione, questo appartenere, ecco, potremmo dire loro. Per fare questo dobbiamo lavorare su alcuni stereotipi, perché il rischio è sacramentalizzare, diamo i sacramenti, ma di fondo più come atto, più come bisogna farlo, più come se non lo faccio mi becco una denuncia forse. Purtroppo mi spiace, ma a Roma a volte ci è capitato che qualche parroco per ignoranza ha ancora dei dubbi, oppure dice facciamo in due o tre incontri. Beh no, il Signore non gioca a ribasso. Questo è umiliante, ma non serve a nulla una cosa del genere. Allora la sfida è di lavorare un pochino sul pregiudizio. Se prima abbiamo lavorato su quello, cioè cognitivo, guardare l'altro solo a partire dalla sua diagnosi, dal limite, questo è quello, cioè religioso. Spesso le domande sono ma a che serve? Ma tanto non sono degli angeli, ma perché peccano veramente loro? Io vi dico di sì, vero Rita? Pure tu fai peccato? No, Rita è senza peccato, Rita è senza peccato. Giusto Luigi, non lo possiamo dire in pubblico che Rita fa i peccati. Quindi è necessario dare i sacramenti a loro? Ecco, allora credo che la sfida sia stare dentro queste istanze. Cioè qui le persone con disabilità hanno una vita spirituale? La risposta non la diamo solo noi, cioè cristiani. Pensate che c'è una ricerca scientifica che non l'ho fatta io, c'è un test book. Noi inizieremo il congresso di giugno, il primo giugno, con l'esperto mondiale che verrà qui a Roma, ma proprio perché vogliamo ripartire dalla spiritualità, che non è lo spiritualismo. Pensate che c'è gente a livello scientifico che dice che persone con pluridisabilità, con disabilità grave, con autismo, usando una vecchia sic a basso funzionamento, hanno una dimensione spirituale. Credo che questo sia veramente bello. Questo deve fare il cammino di iniziazione cristiana. Questo è chiamato a fare la cecatechesico, però per fare questo chiede a noi un po' di lavorare sul pregiudizio, sulla partecipazione, anche sul giocare nello sconto. Ma dai, due incontri bastano, forse ne bastano tre. Mi piace questa immagine, questo padre Sirile è un prete sordo cieco, ha la sindrome di Usher, e qualcuno l'ha conosciuto, è venuto qui a fare un incontro tantissimi anni fa, lui parla cinese, non so quanti parlano cinese tra voi, io no, parlo tante lingue, parlo molto, ma non cinese. Ecco, lui dice sempre, ha avuto la grazia che la gente attorno a me non mi ha guardato in modo pietoso. Allora, la sfida grande che ci dice lui, che spesso alle persone con disabilità vengono offerte tante, c'è possibilità nelle parrocchie, c'è il corso di ipoterapia, il corso di musicoterapia, il corso di gattoterapia, il corso di taglia e incolla, ma un cammino di fede, beh, senta il parroco su questo, non so cosa dirle. Ecco, a volte non c'è una proposta degna per loro, ma non solo per loro, vissuta dentro una comunità cristiana. Allora, la sfida, mi piace questa immagine qui, il problema è celebrare o cerebrale, perché alla fine questo è il grande dilemma. Credo che un po', e questa è una ricerca di John Swinton, che è venuto l'anno scorso, lui è uno degli esperti, e lui stesso dice questa frase molto bella, che le comunità religiose potrebbero creare barriere legate alla natura astratta delle forme di espressione, assumere una base cognitiva per la spiritualità ed esigere una risposta di tipo intellettuale, insita nelle formulazioni, cioè verbali. Se non mi risponde, non può fare la prima comunione, significa che non capisce. A volte noi abbiamo cognitivizzato o dato solo al canale verbale la unica risposta di fede. Beh, perdonate, meno male che mi dite di sì qualcuna. Ecco, credo che questo sia una delle più grandi mancanze, ecco, perché non è corretto. Allora, credo che questo esclude le persone con disabilità, non perché, come è scritto qui, sono meno spirituali, ma a causa del modo e attraverso cui viene definita la spiritualità. Un unico, cioè canale, verbale. Vi ricordate, ecco, le vecchie, cioè chi è Dio, Dio, ma puoi fare la comunione. Io sono una di quelle che dopo la cresima non mi ha visto il parroco, però ho risposto a tutte le domande perché se no non mi lasciava libera, quindi dovevo vivere anch'io. Allora a volte il rischio è di banalizzare l'annuncio, di dare a delle risposte preconfezionate, posso o non posso. Penso che noi cristiani e la cecatechesi ha il compito di preparare il terreno, ma non di misurare la fede. Questo non è il nostro compito, perdonatemi, ecco, credo che non possiamo darlo a delle formulazioni, cioè verbali. Credo che la sfida è che chi accompagna spiritualmente persone con disabilità deve avere un po' il dono della Pentecoste, ve l'ho messo velocemente perché ho il tempo limitato. Ecco, deve essere un uomo che sa discendere le emozioni dello Spirito Santo, che a volte in chi ha attici e linguaggi si muove con attici e connotati, con sguardi, parole ceverbali, gesti, espressioni, tatto. Quindi credo che chi lavora con loro deve perdere tempo, un po' un perdere tempo che ti permette di conoscere il canale comunicativo e con cui l'altro si relaziona. Quello che vi dico oggi non parte solo dalla mia sensibilità, dalla mia storia. Ecco, la cosa bella è che con la tesi di dottorato, che non vi sbobbino, che sono 900 pagine, qualcuno c'era la tesi e sa che è un mattone, un'arma, e abbiamo visto praticamente che la Chiesa sin dall'origine ha avuto sempre un'attenzione grande al mondo della cedisabilità, con canali diversi. Questo è un elenco di alcuni documenti, pensate dal post, c'è concilio, dove c'è un'attenzione al mondo della cedisabilità. È reale che per il mondo nostro la sacramento, cioè Caritatis, con Papa Benedetto, che è un Papa, credo, meraviglioso, lui in maniera chiara, davanti ad alcune persone, che dicono, no, i sacramenti non si danno, lui stesso dice, si danno per la fede della famiglia e della comunità cristiana. Bellissimo questo, perché ci riappropria che l'altro appartiene alla comunità cristiana. Poi vi invito a vedere un video del 2016, dove il Papa, parlando ad una domanda di Don Luigi, che gli ha detto, ma come mai alcuni confratelli miei ancora fanno, cioè, fatica? E il Papa risponde, risponde su alcuni dubbi, ecco che a volte il parroco è il giusto che abbia, però il parroco è anche colui che media la partecipazione all'interno della comunità cristiana. La stessa cosa i documenti per la catechesi, davanti a me ho una suora storica, ma non perché ha una certa età, perdonatevi, ce l'ho pure. Il prezioso documento di base, a cui sono molto legata, il rei c'era quando è stato scritto, quindi davanti a lei sono anche imbarazzata, però è vero, mi meraviglia sempre che in un tempo storico in cui lo Stato aveva ancora le scuole speciali, la Chiesa parla di partecipazione, la Chiesa parla di cammino con tutti, la Chiesa parla di, cioè, formazione, linguaggi, c'è famiglia. Ma voi vi rendete conto che eredità grande che abbiamo come Chiesa e come c'è cristiani? Quanta cultura possiamo fare? E lo Stato è arrivato l'anno dopo, noi siamo arrivati l'anno prima dello Stato. Pensate alla cosa bella, è lì una serie di documenti dove la Chiesa stessa ha sempre visto l'importanza che hanno le persone con disabilità nella comunità cristiana, in un c'è cammino con i suoi compagni, pari con gli altri, dove le parole chiavi sono formazione, linguaggi e fare il cammino con gli altri. Allora credo che questa sia una delle sfide grandi, qui vengono segnate praticamente alcune, qui dietro ecco ce ne sono anche altri. Io vi cito l'ultimo che forse per me è anche il più caro, incontriamo C'è Gesù dove se nel documento base in un tempo storico era citato in due numeri, che è già tantissimo, incontriamo C'è Gesù che è un prezioso documento piccolissimo che ho qui con me, è citato per 17 volte in tutte e quattro le parti del documento. Questo ci fa dire anche il nuovo cambio di paradigma che i nostri vescovi hanno, cioè che la persona con disabilità fa parte di tutta la vita, di tutto l'annuncio ed è molto bello perché veramente è una visione nuova, una visione ecco potremmo dire con una interezza grande. Ecco per fare questo, ecco per fare ciò che la Chiesa ci consegna, quindi che l'altro è un'immagine e c'è somiglianza di Dio, ecco che l'altro è una, cioè persona che ha una spiritualità, ce l'ha anche lui, è corpo, anima e spirito, certo noi dobbiamo cambiare le nostre posture pastorali, spesso abbiamo delle posture che inconsciamente, ecco potremmo dire reiteriamo nei nostri contesti e che non mettono in moto un processo che include, un processo che genera l'appartenenza, che è una parola molto grande. Quanti minuti ho? Uno? Scherzo, uno e mezzo, cinque. Per fare questo siamo chiamati a cambiare paradigma, velocemente faccio queste cose. Il paradigma cos'è? Cioè offre una visione del mondo, in base a questo mettiamo atti, posture, gesti e non è una, e non si cambia perché lo leggi su un libro, si cambia ecco per alcune serie di operazioni di fondo, è quello che il Papa ci dice, si è sempre fatto così. Spesso abbiamo tre posture, tre visioni che mettono in atto delle posture. Una postura potremmo dire ecco grande, quindi vi è sorto a leggere un testo di Justin Glein, molto bello, considerare la persona con disabilità malata, difettosa, sofferente, la tua vita è un'anima offerta agli altri, ma perché la mia no, solo quella non so di... Allora, faccio una battuta perché l'ora è tarda. Il rischio grande è che questa postura mette in atto, potremmo dire, questa visione mette in atto una postura legata alla cura, all'assistenzialismo, up-down. Io mi prendo cura di te, io decido per te, ecco. E le persone con disabilità saranno sempre comprimari, mai attori della vita. Io scelgo per te, io so che è buono per te. Beh, perdonatemi, a volte nei nostri luoghi questo c'è, c'è nella chiesa, nell'associazionismo, ecco c'è questa visione assistenzialista, c'è questa visione up-down dell'alto, dove io do solo a te. Ecco, la seconda visione è una delle cose che è interessante, c'è Ann Arendt che dice spesso sappiamo quello che hanno, ma non chi sono. Questa visione un pochino c'è così. Ecco, tu sai la diagnosi, cosa non gli devi dare, cosa gli devi dare, ma non chi è. Non è una relazione bidirezionale. La seconda visione è quella riabilitativa, dove alla fine si lavora sulla fase evolutiva, ci sono in atto tante c'è proposte, tante c'è terapie, un pochino potremmo dire le parole chiavi sono normalizzazione, integrazione, se nell'atto l'altro era solo un oggetto, ora diventa oggetto e anche c'è soggetto, però solo per una fase della vita. Terminata quella fase della vita l'altro scompare. Un po' come a scuola, vero? finita la scuola, i genitori, vero? Guarda una mamma cara con cui lavoriamo insieme e qualche c'è papà con l'ufficio famiglia della CEI. Ecco, un po' il rischio che ha l'iniziazione cristiana. Se l'iniziazione cristiana non è vissuta dentro la comunità, se non è vissuta come sfida per la comunità cristiana che smuove i pregiudizi, che smuove le posture che non vanno, il grande c'è rischio che tutto finisce qui. Finita l'iniziazione cristiana, se in un bambino accede all'oratorio, al gruppo dello sport, al gruppo giovani e altro, che la persona con disabilità piano 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 scompare. E c'è la delega, se ne occupa l'associazione di fedelluce, perché guardo le sorelle di fedelluce che fanno un prezioso lavoro, se ne occupano X, che è giusto per l'amor di Dio, però l'altro appartiene alla propria comunità. Allora significa che il cammino non ha coinvolto la comunità, non ha smosso la comunità. E io credo che invece uno dei grandi doni è lavorare sul pregiudizio che è la comunità, l'altro appartiene in virtù del battesimo alla comunità. Come Papa Benedetto dice è co-evangelizzatore con noi. Allora la sfida veramente grande è uscire da una visione riabilitativa che è parcellizzata. Ti do i sacramenti, lavoro con te, finito tutto, io non avvio delle sinergie con la comunità. Penso di essere stata chiara. Secondo la visione dei sossegni e dei desideri è quella del progetto di vita. Guardare l'altro come persona, come persona, con tutto quello che è, con tutta la progettualità che ha un pochino quel video che abbiamo visto all'inizio, ecco praticamente. Credo che la sfida grande sia uscire da posture vecchie e qui il cammino è bidirezionale, si cresce insieme, siamo fratelli, apparteniamo allo stesso luogo e gli altri davanti a noi hanno un loro progetto, partecipano, hanno un loro talento, ecco loro si riconoscono come noi appartenenti e quindi terminato, qual è il mio posto nella comunità? Non come diritti ma come restituzione del dono che ho ricevuto. Allora perché no persone con disabilità catechiste? Come accade in questo luogo ma anche in tante parrocchie che vedo? Perché non persone con disabilità? Qualcuno di quei ragazzi lì è l'aiuto del parroco? Perché non chi sta dentro i vari luoghi? C'è un talento, ce l'hanno tutti, pure io che non canto, ce l'ho un talento. Io non so leggere, io se leggo balbetto, per quello sto in piedi, perché io ho un'ansia da morire quando parlo. Non potrò leggere, non potrò cantare, ma faccio altro, quando vengo qui mi sento accolta. Allora credo che la sfida sia guardare lato nell'ottica del progetto di vita, non stereotipiamo, sacramenti punto. Ma perché? Perché non può avere un progetto di vita? Il primo aprile avremo un prete con la sindrome dello spettro autistico, coppie sposate con la sindrome di Down, cristiani che si impegnano dove sono anche con disabilità, ma dove sta scritto? Ecco, allora credo che la sfida grande sia passare dal mettere nato un processo inclusivo che generi l'appartenenza. Per fare questo siamo chiamati a lavorare sulla pastorale del noi. La catechesi deve smuovere la comunità, il creare l'essere noi, rimuovere le barriere mentali, non solo lo scivolo, come ha detto prima Don Enzo. Insomma, per fare questo siamo chiamati a mettere nato una pedagogia catechetica inclusiva che coinvolge i cinque sensi. C'è questo testo del cardinale Tolentino Mendoza che chi ha lavorato con me in questi anni sa che è stupendio. Lui stesso dice che ognuno ha una porta per la quale Cristo entra. Si rifà ad una frase di Sant'Agostino e dice che nessuno non ha porte. Allora questo sfida ad usare corpo, linguaggi, senso. Invece noi spesso abbiamo stereotipato alla pastorale del libro di catechesi l'annuncio. Guardo Marco, che è uno dei grandi catechisti che è da noi, quando lui lavora, sta in gruppo con gli altri ragazzi con disabilità, ha una capacità di usare più linguaggi. È una sfida, ma è una sfida anche per me cristiano. Allora la sfida che lui ci lancia è riconoscere quali portali. Noi leggiamo l'Apocalisse che dice io sto alla porta e busso, ma che bussa solo per quelli che hanno tutti i sensi. Allora mia mamma è esclusa, mio papà è escluso, mia sorella disabile grave è esclusa, tuo figlio è escluso. Cioè come funziona? Allora la sfida nostra è uscire fuori, mettere in gioco altri sensi, usare un'altra pedagogia. Per esempio le persone con disturbi del neurosviluppo, ecco che hanno una fatica nel comprendere alcune parti della parola di Dio davanti a delle inferenze logiche, davanti a delle parabole stesse. Pensate, abbiamo fatto per anni un lavoro con l'ufficio catechistico e anche ora col servizio di alcuni testi, ecco reali, che sono legati alla parola di Dio con equip di ceriturgisti, di biblisti e di chi si occupa della parte a metà cecognitiva, di accompagnamento, di facilitazione del cetesto. Non è impossibile, certo ti richiede alcuni lavori. Altri per esempio, ecco sono sempre sul nostro sito, poi vi faccio vedere se lui vi concede 30 secondi in più. Abbiamo fatto per esempio il suo sito della cecoresima con l'ufficio ciai liturgico dove l'accompagnamento è reso fruibile per tutti i sensi, per tutte le disabilità ed è lo stesso testo. Questa è la strategia. Pensate che l'osservatore ceromano ha notato e altre 40 testate giornalistiche dietro che non è che fai la catechesi per tutti, poi fai il libro H per i disabili. No, no, tu all'interno del cammino proponi un testo per tutti, c'è la messa per tutti, non c'è l'ottica della specialità, c'è l'ottica per tutti. Certo mi richiede una grande fatica prima, però poi è uno strumento bello perché il riconoscimento grande è di lavorare sulla accessibilità, sulla partecipazione, su rendere fruibili questi testi. L'altro sono alcuni piccoli passi e sono alla slide finale, ancora due minuti dal coso che ho scritto il computer, e alcuni piccoli passi. Ecco, il primo piccolo passo è una chiesa in uscita, non perché lo dice il Papa e questa parrocchia ne è il segno. Non è possibile che ero in una parrocchia di Roma, il parroco mi dice, su ora noi non abbiamo nessuna persona disabile. Dico, ma c'è 24.000 persone, mi sembra strano, almeno uno, due, tre, perché tre sordi già li conosco che sono là. Allora dico io, ma come mai c'è lo scivolo e nessuno entra? Allora forse non basta lo scivolo, forse la sfida grande è fare rete ad intra e con le realtà, con le alleanze educative ad extra. Ma dove sono? Come mai le famiglie non bussano? Come mai non entano? I preti con la visita nelle famiglie? Per noi questo funziona ancora, pensate che in molte diocesi, grazie a dei preti, il prete più bello che io stimo tanto è un prete cieco, Don Matteo, che lui è andato in giro per le dio, per le parrocchie, per le famiglie, si è reso conto che c'era tanta gente anziana con i figli disabili dentro e lui ha creato un centro diurno. Cioè la catechesi, quando è vera, quando la comunità si smuove, veramente l'altro fa parte della tua vita. Vai tu in cerca, quindi andare in cerca di loro. Ecco, capire come mai non bussano, sono gli orari, sono le ce propose, come qualche mamma e qualche babbo mi dice, suora non c'è nessuno, io e mio figlio non lo porto. Educare la comunità, la sindrome del torcicollo, ecco che il bambino urla, ma noi vi faremo vedere qui a messa. Cioè il parroco e quindi qui la formazione dei preti, ecco qui è una battuta al Vescovo. Noi per anni qui a Roma l'abbiamo veramente fatto e ringrazio Dio, formare i preti alla confessione, alla presenza ordinaria delle persone con disabilità. Come persone non è un atto di cecarità, veramente è il Vangelo pensato secondo Dio. Come fare all'interno della cecatechesi? Da un lato preparare una strumentazione, dall'altro lato il primo incontro, la presentazione degli amici. Tu non puoi dire oggi arriva in gruppo un down, uno spastico e un cieco. È reale che tutto il gruppo lo guarderà a partire dal suo limite. Ora banalizzo perché ho pochissimo tempo. Ci sono delle tecniche pedagogiche, cioè didattiche, che ti aiutano a presentare l'altro e gli altri in una chiave forolla per tutti, dove tu non guardi solo il limite. La risorsa c'è compagni, ecco chi ha nel mondo della scuola sa la sfida grande, c'è compagni. In questa parrocchia anni fa Stefano, che chi lo conosce insomma direi che è una porta impegnativo, ecco ce l'avamo dimenticati di dirgli che le palme iniziavano fuori. Lui ha avuto una reazione che ho detto Dio smonta la chiesa ora. I suoi compagni sono andati, ti ricordi l'hanno preso, gli hanno detto scusa ci Stefano, la messa inizia fuori e l'hanno riportato dentro. Per dirvi cosa? Questo deve fare la catechesi. I compagni tra pari, ecco, e loro lo possono fare, solo tocca a noi non arrivare cinque minuti prima con libro si apre a pagina. Noi di fondo abbiamo fatto finta di descolarizzare, non mettendo i banchi, ma il sistema è identico, è identico. Allora, la persona con disabilità è un hacker che Dio ci manda, santo, che sabota il fallimento dei nostri sistemi. Ho scoperto che esiste un hacker. Ho finito. L'adattamento come strategia partecipativa, ecco, e non ve lo dico, l'adattamento con le mappe, ma ora vi devo dire che veramente ringraziando Dio è facile. Pensate ai ragazzi dislessici. Io col messale romano che molti preti usano una richiesta di preti che mi chiedono il messale per dislessici. Cioè, voglio dire, non è mica una tragedia. Alla fine pensare che l'uso delle mappe o altro possa essere utile. E poi il grande c'è lavoro della c'è traduzione, ecco, della c'è traduzione in più lingua. E su questo si può fare rete, come diocesi, ecco, potete farlo. Se l'iniziazione cristiana e la c'è catechesi è un cammino vero, vissuto nella parrocchia, smuove altre istanze della vita, smuove il mondo dell'affettività, smuove il mondo della pastorale giovanile, il mondo degli oratori, della pastorale familiare. Cioè, contamina un pochino tutti gli ambiti. Ecco, allora, bilancio questa sfida che potrebbe essere il secondo passo per le parrocchie. È un po' questo Eric Carter che verrà anche lui al convegno di giugno e dove ha fatto il grande lavoro di capire un pochino se cosa avviene per le comunità. Termino e saluto il Vescovo Dario che è arrivato. Monsignor Germasi, salve, ben arrivato, grazie tante. Arrivato alla parte migliore alla fine, quindi meno male. Ecco, termino con questa cosa. L'augurio è qui, è sparito, uscirà con qualcosa? No. Si è perso il Vescovo, insomma, lo troveremo da qualche parte. L'augurio nel cammino, ecco, che state già compiendo come diocesi di Roma, perché come ha detto già Don Dario, come ha detto già Don Enzo prima, ecco, c'è un cammino, c'è una storia che ci precede. Ora siamo in un tempo storico un po' nuovo. Allora, la sfida veramente è un pochino, e vi consegno questa frase che il Papa ci ha riconsegnato, voglia al cielo che alla fine non ci siano più gli altri ma solo noi. Allora, la sfida è che il cammino che mettete in atto possa sempre più creare comunità generative che creino l'essere noi, l'appartenere tutti, ecco, per essere veramente una chiesa che, ecco, che dà un volto nuovo, una chiesa che in questo tempo storico veramente può essere una storia che fa la differenza. Grazie tante e scusatemi. Tutto è sul sito, poi lascio tutto. Io conosco Sor Veronica da più di dieci anni, se non la fermavo continuavo a parlare fino a domani mattina. Molti di voi la conoscono, quindi. Adesso Don Luigi, siccome Sor Veronica è di casa, ti ha rubato del tempo, rientrerai tu nel tempo canonico. Quindi per non incorrere, chiedo la cortesia, noi dobbiamo cercare di rientrare nei tempi, quindi adesso permettiamo a Don Luigi di fare il suo intervento, poi al vescovo di fare le conclusioni, dopo con calma facciamo i nostri interventi. So che c'è tanto desiderio, però capite bene, se interveniamo adesso non permettiamo né a Don Luigi né al vescovo di intervenire. Quindi chiudiamo con le relazioni e poi subito dopo partiamo con gli interventi. Grazie Don Luigi. Questo? Bene. Allora, prima di tutto devo dire a Rita, Rita, non ti preoccupare, Sor Veronica voleva dire che io faccio più peccati di te. Ok? Stai serena. È vero questo, non è sbagliato. mi viene da pensare quante volte possiamo dire la parola tutti, tutti. Pensate chi può fare il cammino dell'iniziazione cristiana? Tutti. Chi può aiutare? Chi può essere catechista? Secondo me lo siamo tutti. Per quanto tempo dura l'iniziazione cristiana? È un inizio, ma dura tutta la vita. Quando smettiamo di incontrare e conoscere Gesù? Spero si va verso una conoscenza addirittura al di là di questa vita. Mi diceva un ragazzo, che in questi giorni forse diventa anche un magistrato, mi diceva qualche anno fa, io ho bisogno di catechesi proprio, come dire, profonde che mi sostengano. È molto intelligente ed è tanto generoso nelle relazioni con le persone. Aveva trovato due o tre possibilità nella nostra diocesi e mi chiedeva cosa ne pensassi. Io gli dissi, possono venire tutti da te? Che significa? Può venire anche una persona disabile? Beh, no, ci vuole un certo livello di preparazione. Allora, forse nessuna di queste è veramente adatta. Poter dire tutti non è così scontato. Veramente il rapporto con le persone, tutte le persone, riguarda noi tutti. Diceva Paolo VI, tutto ciò che è umano mi interessa. E aveva veramente ragione. Perché è da questo che, secondo me, si risponde a una grande attesa. All'attesa di tutti di poter vivere una vita veramente umana. Chi può dire tutti davanti a quella spiaggia dove sono arrivati solo morti? Chi può dire dignitosamente che tutti fanno una vita che vale? Allora, noi possiamo, in realtà, quell'ultimo tassello che ci presentavo a sua Veronica, quel passare al noi, che è proprio indicare una realtà umana. E la Chiesa è veramente quel lievito che sta nella realtà umana. Perché alcuni discorsi li capiscono proprio tutti. Ci sono delle cose che sono comprensibili e credibili una volta che noi la smettiamo di considerare le persone secondo degli stereotipi. Per esempio, chi può celebrare? Io credo veramente tutti, ma non soltanto a parole. Alcuni ragazzi, ragazze, adulti ci aiutano a celebrare. Ci sono sacerdoti, come era per me all'inizio del cammino sacerdotale, che impazzivano tre, quattro giorni a capire cosa dire domenica la missa. Quale omelia è lì a studiare su vari personaggi, tra i più famosi, più intelligenti. A me mi aiuta Raffaele. Raffaele mi aiuta. Raffaele è un ragazzino, quant'ha? Dieci anni? Dieci anni. Raffaele ha sentito il discorso sulla quaresima e me l'ha smontato completamente. Confermandomi quello che mi disse un amico sacerdote, un po' in viso a suo tempo nel vicariato, che l'omelia non la fa un libro, la fanno le persone, le persone che incontri, che conosci, loro ti parlano, ti interrogano, ti mettono in crisi, smontano e rimontano e ti fanno capire quello che veramente vale. Non credo che ci sia niente di più bello che aver incontrato tutte le persone e in queste sta cominciando a finire la definizione con disabilità e pian piano ti vengono alla mente solamente i nomi di queste persone. E te ne accorgi, ma non se ne accorgono soltanto quelli che celebrano, se ne accorgono anche gli altri. Perché non c'è Stefano? Aveva accennato prima su Veronica. Perché non c'è Simone? Perché non c'è questo e quello? Così come degli altri. Anche quei fastidi che vengono perché sembra che la celebrazione non abbia quella spiritualità. Non so se per spiritualità si intende il silenzio asettico. Non lo so che cosa si intende. Ma quando tu vedi che ognuno può partecipare, ognuno partecipa e che in qualche modo aiuta gli altri a capire. Non avete idea di come tante persone, quelle che noi consideriamo lontani, che poi non sono lontani, sto proprio vicini di casa. Proprio qui su questo c'è un campetto sulla follia di questa chiesa costruita per arrivare qua sotto è complicato, non è semplice. Chi l'ha costruita non aveva il senso delle persone che avrebbero potuto abitarla. Questo è un piccolo quartiere, circa 10.000 abitanti. Qua su si incontrano e soprattutto si sono incontrati durante il tempo della chiusura del Covid ragazzi e ragazze. Noi tenteremo di dire disabile e non disabile. Ormai sono diventati amici e non hanno smesso mai. E alcuni sono cambiati proprio perché erano queste presenze a diventare familiari. Quando si diceva prima, Sor Veronica, una comunità generativa, una comunità che riesce a cambiare proprio in base a quella realtà che sta pian piano conoscendo e affrontando. Mi faceva venire in mente Raffaele, quel pezzetto che scrive un libretto a Martin Buber, il cammino dell'uomo. C'è un piccolo aneddoto dove c'è un ebreo di Cracovia che va fino a Praga a cercare il tesoro. Un tesoro che ha sognato fosse sotto un ponte lì a Praga. Finché una guardia si rende conto di questo strano personaggio che si avvicina ma poi va via impaurito dalle stesse guardie e lo prende in giro quando si sente dire ma io ho sognato che qui c'è un tesoro, ecco perché vengo ogni volta, però ho visto le guardie e sono andato via. E poi gli dice questo capo delle guardie ma guarda anche io ho fatto un tesoro che nella casa di un ebreo di Cracovia sotto la cucina c'era un tesoro ma mica sono andato a Cracovia. Lui corre a casa e trova il tesoro a casa sua. Il tesoro è dove stiamo? Il tesoro sono le persone. Se uno dovesse allontanarsi da quel tesoro e prima o poi avviene per tutti quello che ti rimane nel cuore sono le persone, la loro storia. E dobbiamo anche imparare ad essere tutti genitori, padri e madri. Il Vangelo ce lo dice così chiaramente. Non c'è bisogno nemmeno di tante interpretazioni, cioè ad accompagnare, magari a correggere qualche volta e pian piano a fare un passo indietro. Perché quello che comprendi di una persona ha diritto di manifestarsi pian piano. E se bisogna cambiare qualche tradizione, se bisogna cambiare qualche regola, che si cambi. Che si cambi. Perché solo allora possiamo dire tutti. Altrimenti diremo una parola che non ha mai corrispondenza con la realtà. Mio figlio e mio figlio non potranno lavorare, mio figlio e mio figlio non possono stare con gli amici, non avranno tanti amici quanti ne hanno quelli che vanno all'università e così via, così via. Non possono fare questo, non possono fare quello. Un signore, solo per dirvi dei fatti accaduti anche ultimamente, un signore viene dall'altra parte di Roma, porta qui suo figlio, ha circa dieci anni, non è credente. Io faccio fatica a vestirmi col colletto perché mi sta stretto, adesso mi confesso davanti ai sacerdoti che sono più bravi di me. Anche perché, insomma, essendo io magro, sudo e quindi poi si vedono tutte le strisce del sudore. Un signore non ha capito che era un sacerdote e poi dopo un po' non so perché ti riconosco. E lui mi dice, guardando i ragazzi che giocano, questo io non sono credente, vengo da, se non sbaglio, da Ciampino. Dice però, se Dio c'è, sono questi ragazzi che giocano insieme. Mi ha colpito tanto perché ne ho sentite tanti di testimonianze, di dolori, di persone che hanno fatto di tutto per far valere quello che veramente vale per tutti. Ecco perché io ringrazio tanto Sua Eccellenza Daniele, Don Andrea, Don Andrea che è sempre stato sensibile a ciò che riguarda l'accoglienza di tutti nella catechesi, Sua Veronica che praticamente, meno male che fanno vederla in televisione perché almeno è qualcosa che si può capire, che si può, e pensa di non riuscire a esprimersi bene, ma si capisce anche se non ti esprimi così bene quello che vale. E Sua Eccellenza Monsignor Dario, ci stiamo anche, stiamo cercando di realizzare un sogno. Un sogno che io chiamo la Falcognana, è un luogo a due passi dal Divino Amore e alcuni parlano sempre della Providenza, io non lo so come mai, ma quel luogo ha custodito la Madonna del Divino Amore perché quando ci fu la manifestazione miracolosa non c'era la Chiesa e la portarono lì, a Santa Maria Ad Magos, Santa Maria dei Re Maggi. Ed è anche bello questo dei Re Maggi, l'Epifania, verso chi? Tutti. Non uno, o un gruppo, o questi o quelli, tutti quanti, senza escludere mai nessuno. Questo luogo vorrebbe diventare, io credo che lo inizierò soltanto se tutto andrà bene, ma vorrebbe diventare un luogo dove si possono incontrare tante attese. L'attesa del vivere insieme, soprattutto quello che si definisce il dopo di noi, persone che non hanno altre persone che possono accompagnarle nei tempi più complicati della vita, quelli della fragilità. Un luogo di lavoro perché anche la concezione del lavoro dovrebbe cambiare dappertutto, per tutti. Non può essere legata. Ieri parlavo con una donna tunisina che lavora per una cooperativa, la quale prende oltre 4.000 euro per due anziani che le assiste, ma lei ne riceve 900 al mese. Credo che la senti la schiavitù. Non è giusto. Non è proprio giusto. Allora una concezione del lavoro a cui possono accedere tutti. Quello che posso fare, quello che posso fare in un luogo bello, perché devo vivere in un posto brutto? Perché devo vivere in un posto che non rispetti l'ambiente che è così bello, quello nel quale ne siamo nati e cresciuti, che la città di Roma dovrebbe essere veramente un faro per una vita dignitosa. Ecco, insomma, non voglio tediarvi a lungo, ma secondo me la realtà parla e questa realtà ci aiuta a prendere delle decisioni. Forse possono essere complicate, forse ancora dobbiamo vincere delle resistenze, però secondo me vale la pena, perché tutti valgono davanti a Gesù. Gesù ha chiamato ad annunciare il Vangelo a tutti. Non ha disposto una categoria escludendone altri. E mi pare che i documenti della Chiesa, degli ultimi padri, degli ultimi papi, sono in questa direzione, nella direzione di un Vangelo concreto, di un Vangelo vero. Grazie. Spero di... Ringraziando Don Luigi, diamo ora la parola a Sua Eccellenza per le conclusioni del nostro incontro. Grazie. Da un po' di tempo la rivista Vocazioni del Servizio Nazionale della Vastorale Vocazionale della CEI appunto lascia che l'editoriale sia scritto da un ragazzo autistico, si chiama Federico De Rosa. Io vi leggo il testo dell'editoriale che Federico ha scritto per il numero di agosto 2022, quindi qualche mese fa. Il titolo è Le barriere cadono ed è un commento al brano del capitolo 10 del Libro degli Atti, su cui probabilmente le nostre comunità diocesane stanno meritando, in cui Pietro e Cornelio si incontrano e così le barriere di Pietro cadono grazie a Cornelio che è un pagano, quindi Pietro deve rivedere completamente il suo modo di annunciare la fede e diciamo così i referenti del suo annuncio perché Cornelio non era previsto fra coloro che dovevano ricevere l'annuncio. A partire da quel testo Federico scrive che bello il brano della parola di Dio che Vocazioni ha scelto per questo numero. Gli esclusi della Chiesa nascente, alcuni appartenenti ai popoli pagani, vengono invitati dallo Spirito tramite un suo messaggero a mettersi in cammino verso la Chiesa stessa, personificata in Pietro che per mandato di Gesù la conduce. Contemporaneamente lo Spirito invita anche Pietro a mettersi in cammino dentro di sé, per non considerare più impuro, diverso aggiungerei, ciò che lui ha diligentemente evitato per tutta la vita. Quando si incontrano le barriere cadono e la Chiesa si apre ad ogni essere umano. Questo per me è meraviglioso perché come persona autistica tante volte sono stato discriminato ed escluso nelle situazioni più diverse perché ritenuto stupido o incapace, mentre ho solo una mente che funziona diversamente, una mente straniera. Bello è constatare che entrambi hanno dovuto mettersi in cammino, ciascuno lasciando le proprie certezze per rendere possibile l'incontro. E noi oggi? La domenica a messa io sono l'unico autistico. Dove sono gli altri che da anni ne nascono uno ogni cento nuovi nati? Anni fa c'era a messa un ragazzo down ma poi non è più venuto ed altri non se ne sono visti. E i ciechi? saranno tutti i atei ciechi? Dispiace dirlo ma se in Chiesa fossimo tutti italiani, bianchi e sani verrebbe il dubbio che quella sia un'audonata del partito nazista. Chissà quanti discriminati, quanti esclusi sono già in cammino cercando qualcuno che li accolga ma se non ci mettiamo in cammino anche noi per andare loro incontro, questo incontro non potrà avvenire. Io penso che ogni parrocchia dovrebbe elaborare un piano di inclusione per tutti gli esclusi e non solo per opere di carità ma per includerli nella propria comunità e dare loro i posti di maggior riguardo. Il mio augurio è che gli ultimi secondo il mondo possano diventare i primi. Sarebbe una testimonianza inarrestabile. Allora questo è quello che lui ha scritto su questo editoriale. Tra l'altro se voi volete, proprio scrivendo su Google Federico De Rosa, vocazioni, compaiono tutti i suoi editoriali che direi sono molto stimolanti, sono un percorso molto ricco dal punto di vista della vita spirituale. Ora chi mi ha aiutato ad interagire con Federico? Il papà. Il papà mi ha aiutato a interpretare la modalità con cui Federico mi parlava e io non potevo accedere a Federico e comunicare con lui se non avessi avuto il papà. Quindi carissimi fratelli e sorelle è molto importante che chi in mezzo a noi ha gli strumenti per capire, dialogare, interpretare qualsiasi tipo di modalità comunicativa con cui i diversamente abili comunicano si faccia mediatore culturale. Questo è importante. Dobbiamo capire proprio che è veramente preziosa questa mediazione culturale. Altrimenti il contatto non si crea e la comunione rimane sempre difficile. Quando il papà mi ha insegnato a comunicare con Federico io tra l'altro debbo dirvi ne ho provato una grande soddisfazione. Cioè è come quando ti riesce un compito o come quando ti viene una ricetta in modo straordinario. Ecco vedi proprio che anche tu sei soddisfatto per questo che si è creato di nuovo che prima non era possibile ma grazie alla mediazione passatemi il termine o l'analogia culturale del papà la comunicazione fra me e Federico si è realizzata ed io la continuo e lui la capisce. Federico riesce a comunicare e scrive questi editoriali soltanto con il computer perché altrimenti la comunicazione verbale e fisica è molto difficile. Ma io l'ho imparata. e questo è stato un grande successo anche per me. Sor Veronica parlava di... usava due parole chiave. La prima paradigma, cambio di paradigma, la seconda molto significativa perché anche più che chiave è una parola simbolica. Ricorderete quando lei ha usato il termine hacker, quindi qualcuno che disturba il normale processo della comunicazione. Sono molto convinto che dietro questa parola simbolica hacker ci sia una via da percorrere perché io ho chiesto a Federico di parlare sempre attraverso il computer per cui immaginiamoci questa scena. Lui era qui al mio posto e quello che scriveva veniva proiettato, in questo modo tutto l'uditorio vedeva, a tutti i genitori della mia comunità. Quindi parliamo di... saranno stati duecento presenti in quell'appuntamento. Era un momento in cui vivevamo una condivisione con i genitori che era anche un incontrarsi, un conoscersi e Federico è stato l'hacker di quella comunicazione, nel senso che noi abbiamo chiesto a Federico di aiutarci a comunicare, di aiutarci a vivere quel momento come un momento formativo. Devo dirvi che siamo partiti da uno di questi testi di Federico. Mentre si leggevano questi testi c'era un silenzio nella sala incredibile perché l'orizzonte in cui Federico si colloca è un orizzonte di conversione per chi usa delle comunicazioni, diciamo se volete, più diffuse come noi. Cioè la comunicazione di Federico, la visione del mondo che ha Federico, in quanto persona autistica, non è l'orizzonte della maggior parte delle persone, ma è un orizzonte che converte. Allora si parlava anche di sinodo. Voi sapete che fra i tanti cantieri ce n'è uno, il primo, che parla della, cioè che ci propone di incontrare quelli che sono fuori dalle nostre comunità. Allora io trovo che sia molto utile utilizzare questo indirizzo che il primo non corrisponde al secondo, l'essere famiglia, l'essere comunione, ma nel senso che ora vado a spiegarvi. Io non ho mai vissuto ciò che il primo cantiere ci propone come un dire noi buoni, noi che abbiamo capito, andiamo a incontrare i cosiddetti pagani. Non è così. La mia esperienza mi ha portato a comprendere questo. In realtà se io esco, se io incontro tutti i docenti del mio territorio, di religione e non, io torno da quell'incontro molto arricchito. Ovvero sviluppare il percorso del primo cantiere fa bene anche a coloro che appartengono alla comunità cristiana. Perché si riceve, non è che fai del bene. Ricordate anche prima si dice fare del bene, non è questo, non è questa dinamica quella che ci serve quando incontriamo la disabilità, le persone disabili. Perché in realtà si riceve, ci si lascia convertire. Questo è stato Federico per me ed è stato anche per tutti i genitori che erano presenti a quegli appuntamenti. E vi dico che ho visto molte lacrime, ma erano lacrime che indicavano la possibilità di un cambiamento di atteggiamento e di prospettiva proprio rispetto alla vita. Quando ci si incontra con chi è fuori dalla mia cerchia degli identici, noi veniamo aiutati. Non aiutiamo, veniamo aiutati. E in termini spirituali veniamo aiutati a convertirci. Questo è possibile se viviamo questa forma di comunione nuova anche con le persone che portano nella propria storia la disabilità. E questo è sinodo. Cosa sta facendo ancora Federico? Insieme al papà ha aperto uno sportello per l'autismo. Perché questo tipo di mediazione va diffusa. Chi accede a questo sportello per l'autismo? Ecco, per esperienza debbo dirvi i primi ad andare numerosi a parlare con Federico per cercare di riuscire ad interpretare il linguaggio delle persone autistiche sono stati gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti anche delle materie auricolari, i quali spesso non hanno un'adeguata formazione per interagire con gli alunni autistici nelle loro classi. Io ho voluto partecipare a questi incontri. Devo dirvi che molto praticamente attraverso questo sportello veniva offerto ai docenti un percorso veramente adeguato di comunicazione con i propri alunni anche autistici. Mi sono confrontato con i docenti dopo un po' di tempo e mi hanno detto che i risultati positivi si sono visti, c'erano. Quindi quando noi iniziamo percorsi di questo tipo penso sia molto bene avviare delle possibilità, mettere in campo dei percorsi, dei progetti che sempre più ad ampio raggio permettano a coloro che comunicano secondo un normolinguaggio, chiamiamolo così, di riuscire ad interpretare la modalità comunicativa di coloro che vivono l'esperienza della disabilità. E questo non va mai, come dire, dato una volta per tutte, perché c'è bisogno che questa mediazione culturale sia offerta a quante più persone possibili. Ma quando noi la avviamo, essa è assai feconda. Quindi questo mi sembra un percorso molto utile che mi piaceva condividere perché ne ho visto gli effetti di persona. Grazie. Ringraziamo Sua Eccellenza. Adesso abbiamo del tempo per poter intervenire. Possiamo rivolgere delle domande a Sor Veronica, al Vescovo, a Don Luigi. Ecco, soltanto una cosa volevo precisare. Se qualcuno stasera è venuto all'incontro con l'intendo di ritornare a casa con delle soluzioni, avete capito che non siamo qui a dare delle risposte che diano delle soluzioni. Siamo partiti da un'esperienza e questa esperienza ci permette di capire che forse dobbiamo mettere un po' di olio negli ingranaggi della nostra pastorale, basta poco per vivere questa rete e questa collaborazione all'interno delle nostre parrocchie. Non abbiamo la soluzione, non abbiamo gli strumenti che possiamo, ci possiamo aiutare, possiamo ragionare tra di noi, però ecco cerchiamo veramente di camminare con questa prospettiva di fare rete, di raccontarci e di capire come possiamo lavorare all'interno. Potremmo farlo a livello di settore, potremmo farlo a livello di prefetture, però questo è il pensiero che abbiamo e questo dobbiamo portare con noi a casa. L'ufficio catechistico cerca nel limite del possibile di aiutare le realtà parrocchiali, ma anche qui non ha la soluzione a tutto. Però ecco, noi ci siamo, l'ufficio catechistico è a disposizione in qualsiasi momento, però ecco cerchiamo di aiutarci anche con chi ha più esperienza da questo punto di vista. Adesso lo so che siamo arrivati alle 20, quindi qualcuno dice no, andiamoci, non ho le domande, basta così, però se qualcuno liberamente... Ecco qui, scendo io così... Sono della parrocchia di Santa Segna e il mio nome è Marta e da quest'anno mi occupo di... faccio sostegno a un bambino autistico con altre due catechiste, perché uno si occupa anche di fedeloce. Vorrei chiedere come si fa a trovare il Vangelo proprio per i bambini autistici, perché noi abbiamo dato il Vangelo normale. Vorrei sapere come si può fare per trovare questa comunicazione alternativa anche tramite il Vangelo. Grazie. Scusa, raccogliamo un attimo di interventi, perché sennò diventa complicato, io sono come Don Luigi, difficoltoso, salire e scendere dalla scaletta. Buonasera, io volevo fare una domanda. Insomma, noi abbiamo tanti bambini molto iperattivi, ecco, che soffrono la messa in modo veramente disperato. Diciamo che anche nella catechesi ci inventiamo ma proprio a fantasia, nel senso che anche perché ogni bambino è a sé e quindi non è che possiamo usare la stessa strategia perché non va bene per tutti. Però la mia domanda proprio è sulla messa, come voi, la parrocchia, come riesce a gestire, ecco, perché c'è questi bambini che saltellano, noi li lasciamo liberi di fare, non è che sono costretti a rimanere, però per aiutarci a capire anche che strategie possiamo utilizzare e anche per far capire agli altri che hanno bisogno di saltellare i bambini, non possono stare seduti insomma incollati alla sedia. Grazie. Allora, nel frattempo se c'è una terza domanda. Federico ha ancora il laboratorio di comunicazione? Parrocchia San Frumenzio. Dal sito si desume. Buonasera. Il mio vorrebbe essere più che una domanda, un'esortazione. Sostanzialmente io sono una mamma, prima di tutto, che ha trovato in questa parrocchia, vengo da un mondo di catechesi personale, ma ho trovato in questa parrocchia la piena accoglienza quando mia figlia più grande, senza alcuna difficoltà, si è avvicinata prima ai sacramenti, insomma ha vissuto il suo normale percorso di crescita di qualsiasi bambino. E quindi abbiamo scoperto la grandezza e la ricchezza di Don Luigi come porta aperta, per tutti, indipendentemente dalle caratteristiche di ognuno. Secondo me è questo un invito ad avere anche un'apertura verso un percorso di fede per tanti, in quanto io non mi vergogno a dirlo. Nel momento in cui il mio figlio era stato battezzato da Don Luigi, mio figlio è un po' il Federico di cui parlava lei, eccellenza. E quando abbiamo avuto comunque la diagnosi e la presa di coscienza della gravità della sua situazione, in preda alla disperazione e anche alla difficoltà di accettare, perché pur essendo una cattolica è stato percorso, è stato difficile il percorso di accettazione. Io una mattina sono venuta qui da Don Luigi, è la prima persona che ho sentito spontaneamente a cui dovevo rivolgermi e da lì ho trovato un qualcuno che non è stato ad ascoltarmi e da dirmi discorsi classici e scontati. Si è posto davanti a me dicendomi innanzitutto raccontami quella che è la tua vita e poi impara per tuo figlio a guardarlo come lo guardavi ieri. È lo stesso bambino, lo stesso sarà domani. Mio figlio frequenta questa parrocchia, lui non ha la voce, si esprime con strumenti di comunicazione alternativa, però io non ho avuto mai, mai una difficoltà a portarlo a catechismo, a dire oggi con chi sta? Se io lo porto a scuola quotidianamente mi chiedo, c'è l'operatore, c'è il sostegno, manca qualcuno? Io lo porto qui in parrocchia e so che lui è accolto, ma l'espressione più bella me l'ha data lui, di quella che è la sua vita qui. Un giorno gli ho detto ma come mai sei così contento di andare lì in parrocchia, frequentarlo, hai trovato nuovi amici e lui mi ha detto io qui sono felice perché sono raffo e non sono raffo il bambino speciale. Ecco secondo me questa è la chiave di apertura di quello che deve essere il nostro cammino di comunità. Scusate se mi sono un po' dilungata, grazie. Grazie Mariella perché è veramente bello, credo che lei ha fatto la sintesi. Ripercorro le due domande, alcuni testi si possono trovare sul sito del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità. L'idea è che questi testi che ci impiegano un pochino anni perché non sono lavori facili, noi li mettiamo gratuitamente sul sito come c'è l'agenda per fare la catechesi eccetera eccetera. Ora una proposta che forse rilancia l'ufficio catechistico. Allora per i bambini iperattivi ci sono dei patti all'interno di un corso di c'è formazione, ecco c'è anche come gestire, come accompagnare la loro partecipazione reale che non posso prenderlo e portarlo in un luogo. Però la liturgia, ne parlavamo prima col vescovo, ha una capacità performativa, cioè essendo sempre identica che per noi è una palla invece per le persone con disturbi del neurosviluppo ha una capacità grande di partecipazione. Allora eventualmente potreste fare questo rilancio, il compito a voi a casa, c'è forse dei piccoli percorsi di formazione per imparare i piccoli patti che puoi mettere in atto perché se no allora è stressante, è un esaurimento, c'è quello che corre, liberativo, quello che è maleducato, quello di disagio sociale, poi c'è pure una fine, c'è, madonna mia, insomma. Allora sicuramente ci sono delle tecniche che si mettono in atto che accompagnano la cecatechesi e accompagnano la comunità alla partecipazione. Si fa per step, ecco questo sì. Quindi sicuramente la formazione è la chiave di lettura e poi tante cose si trovano sul cioè sul sito, forse l'ufficio cecatechistico può fare da raccorda anche con Don Luigi, ecco. Io aggiungerei che di per sé la messa è difficile per tutti. Ovvero il significato, il messaggio che la liturgia in sé, quindi al di là della parola di Dio, porta le nostre vite, non è mai facilmente assimilabile, anche per noi. Se io per esempio mi soffermo a riflettere sulle parole che dico quando c'è la consacrazione del pane e del vino, è un messaggio di salvezza straordinario, no? Che però noi non percepiamo più. Allora, anche in questo caso, proprio quello che io condividevo con voi prima quando ho capito che non c'è l'aiuto da dare al ragazzo autistico perché lo fai per solidarietà, no? In realtà sei convertito da quella prospettiva, no? Da quella modalità di vita. Il bambino che salta sul banco dice a noi tutti, sacerdoti compresi, che la messa è difficile. Quindi andrebbe colto come la punta di un iceberg. Se volete, colui che mi sta parlando mentre gli altri si tengono dentro, no? Il disagio dell'essere lì e del non capire, ecco, colui che mi sta parlando e mi sta dicendo cerca di rendermela vicina. Cioè, cerca di farmi capire perché sine dominicum non possumus. Cioè, senza domenica io non posso vivere. Senza il giorno del Signore io non ce la faccio, no? Questo è il tema. Cioè, perché quel bambino dovrebbe tornare a casa dicendo io ho bisogno di venire qui. E ripeto, potremmo interpretare quel suo saltare come chi protesta mentre gli altri tacciano. Ecco, per capirci. Sì? Sì? Rispetto a questo aspetto volevo offrire un suggerimento. Sono una docente di sostegno, conosco molto bene queste problematiche ed è vero che ci sono delle tecniche, no? Però è pur vero che per chi, diciamo, non è specializzato, per chi non conosce, per tante donne e uomini di buona volontà che offrono il proprio servizio e fanno catechesi, queste dinamiche sono piuttosto complesse e sono sconosciute. Però una cosa è certa, un bambino iperattivo è un bambino che ha necessità di essere coinvolto con una partecipazione mirata. Mettiamolo a suonare il bongo. Vivrà di quell'attesa e del momento in cui dovrà suonare il bongo. Nel frattempo rimane fermo perché le abbiamo circoscritto un'azione specifica. E il starà fermo perché si sente responsabilizzato in una situazione dove è protagonista. Piuttosto che facciamogli fare il famoso chirichetto, no? L'offertorio, portiamo all'altare i doni. Vivrà di quel momento, se noi li facciamo partecipare durante la celebrazione con delle azioni fisiche, cioè hanno bisogno di muoversi. Sicuramente questo aiuta tantissimo. Poi magari in alcuni casi non sarà sempre così perché poi anche l'iperattività c'è tanti aspetti. Però mi sento di offrire questo suggerimento. Non so se c'è qualche altro intervento. Nel frattempo prima è entrato, è stato presentato, ma Monsignor Gervasi è vescovo di settore, di questo settore. Quindi lo ringraziamo per aver... Grazie a te. Scusate, io sono arrivato tardi, purtroppo non ho potuto seguire la prima parte. È bellissimo ascoltarvi e anche molto commovente. Non avrei niente da dire, però due cose mi sono venute in mente proprio adesso. La prima è che da qualche giorno che penso a quello che ha detto Don Luigi, che me l'aveva già raccontato, questo fatto di questo papà che venendo qui diceva io non sono credente, ma se Dio esiste è qui con questi bambini che giocano, in questi bambini che giocano. Mi ha colpito tanto da allora, proprio perché la vedo una cosa molto vera, perché penso che proprio ho accolto qualcosa di magnifico. E poi, sentendo adesso l'intervento bello che diceva lei, e prendendolo dal punto di vista di Daniele, che diceva che è una conversione, entrare nell'orizzonte magari di un bambino iperattivo, lei diceva che se noi gli diamo una cosa da fare, ecco che per lui è più facile capire che partecipare alla messa è molto importante e la partecipazione lo aiuta. Però anche questo è un messaggio di conversione per noi, perché tutti noi dovremo in effetti partecipare alla messa capendo che abbiamo un compito irrinunciabile. E allora questo gioco funziona molto bene. lui diventa, essere attento a lui, trovare un modo per farlo partecipare, però ci fa la domanda, ma io come vivo la messa? A me non ha fatto fare questa domanda a me, no? Per me, io di cosa ho bisogno per capire che anche io devo viverla in maniera così, no? Quindi veramente c'è una ricchezza immensa. Sì, 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 si riceve tantissimo. Perché penso che chiunque riuscisse a capire questo entrerebbe nella messa, tanti non vengono. C'è una parabola che pure mi veniva in mente, no? Di Gesù che gli invitati alle nozze, Gesù che invita, invita, invita nessuno, alla fine prende tutti quelli che non venivano, che a volte noi pensiamo che non sono quelli che devono stare, sono loro che faranno il pranzo di nozze, mentre gli altri, cosiddetti invitati, persone che Federico direbbe, come quel ragazzo direbbe, quelli tutti precisi, eccetera, non entrano proprio. Perché forse hanno più problemi, perché non riescono a capire quello che gli manca a loro, no? Quindi veramente grazie. Ecco, volevo ringraziarvi. E anche Don Luigi che sta facendo questa, un po' mi sta facendo partecipe di questo sogno, perché qui nel settore sud, proprio, ho visto dall'inizio come ha iniziato in mezzo alle sterpaglie le cose e come adesso, grazie alla comunità che lo segue e all'impegno che ci sta mettendo, questa Santa Maria Admagos sta avvenendo veramente, si sta iniziando a sentire, a vedere questo sogno, no? Ci vorrà ancora un pochino, però, diciamo, è veramente un sogno per tutti, quindi veramente cose molto belle questa sera. Grazie, anche io esco fuori molto arricchito. Anche il suo Veronica l'ho sentito poco, ma mi è piaciuto lo stesso. Bene, non so se ci sono ancora degli interventi, altrimenti chiediamo a Sua Eccellenza di farci al Vescovo di casa una preghiera e una benedizione. Abbiamo, non vi muovete per cortesia perché preghiamo insieme, dicevo all'inizio ci sarà la registrazione per poter poi avere un po' tutta la serata. Vi chiedo la cortesia, perché poi solitamente avviene così, dopo gli incontri, la sera o domani mattina presto, già arriva una mail in ufficio per avere il video e quindi domani ci ritroviamo 100-120 mail in cui si chiede. Allora, col tempo, perché l'operatore deve anche lavorare sul video, quindi arriverà, sarà pubblicato anche sulla pagina YouTube dell'ufficio catechistico, quindi arriverà. Quindi cerchiamo veramente di non affrettarci nel richiedere subito il materiale, quindi veramente il materasso. Ecco, grazie veramente per la vostra partecipazione e concludiamo con una preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo per il dono della vita, per il dono di questa vita che ha anche tante cose che dobbiamo ancora scoprire e capire. Per il dono di tutti i fratelli, questi noi che tu hai voluto mettere uno accanto all'altro, aiutaci perché possiamo ascoltarci, capirci, entrare sempre di più in comunicazione di quel tesoro che tu ci hai donato e che hai posto nel cuore di ciascuno di noi. Come i tuoi figli diciamo insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi e benedica di ogni potente Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Andiamo in pace. Grazie. Grazie.